Belli che nottari, bentornati, qui Yoshi e oggi siamo qui per parlare della modalità mondiali su FIFA 23 Cosa succede? Se la mettono su Ultimate Team, come avete detto dal titolo, no, non la metteranno su Ultimate Team Quello che andranno a fare su Ultimate Team lo vediamo tra poco, ma quello che faranno in realtà è inserire la modalità dove puoi giocare in modalità singolo, coppa e bla 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 Ai mondiali hanno ricostruito ovviamente la Coppa del Mondo, tutti i gironi, poi gioca pure con le varie squadre che non si sono qualificate al mondiale Quindi se potremmo fare un bel mondiale con l'Italia offline, che meraviglia Hanno fatto tutta la veste grafica e tutto quanto, penso aggiorneranno poi le rose con i vari convocati delle nazionali Si dà la possibilità di giocare con gli amici in locale contro appunto la CPU Ma niente di più, quello che hanno detto subito è che non inseriranno la modalità mondiale, quella che c'è stava per capirsi FIFA 14 e FIFA 18 Quella che uscì ogni 4 anni, però in periodo estivo Ma ci saranno delle promo, delle varie carte, degli swap che andremo a vedere L'idea per me ci sta da parte loro perché hanno deciso di non smontare il mercato A cui già hanno dato delle belle botte con le varie cazzate che hanno fatto, tipo ad esempio quel liro scambiabile e il pacchettino Devo dire che secondo me come giocata ci sta Perché tanto era una modalità fino a se stessa, senza dare nulla in più Dando nulla poi ad Ultimate Team, quello classico che durava tutto l'anno E ti devo dire che uscendo a novembre come modalità ti durava una settimana, ti smontava tutto E invece così hanno cercato di tenere un po' più sul mercato Visto che poi comunque quando finiscono i mondiali arrivi a ridosso dei toti E lì si prende un'altra bella botta E poi per molti finisce post toti il gioco alla fine Però sì hanno fatto la modalità live con l'aggiornamento delle fasi giro e le fasi eliminazioni dirette Però diciamo che sì hanno fatto pure, graficamente è anche carino Hanno inserito due degli otto stadi costruiti apposta per i mondiali Però diciamo che non è che sono andati a fare niente come era prima Cioè nel senso non è che c'è più quella bella modalità dove spacchettavi tutto non scambiabile Niente mercato, pila doppioni non scambiabile E andavi ad inserire nuove cose Invece per Ultimate Team ecco la gestione che c'è stata Praticamente hanno messo che all'interno del club Riceverete le carte a scadenza Che hanno appunto questo logettino qui Se vede nel trailer ad esempio Modric Se ho visto Mesapurum, Pedri, un Courtois Non ho ben capito come linkano perché le buttavano in mezzo alle varie squadre Non piavano link, spero sia un errore Spero sia una cosa che vada a fixare che abbiano gli stessi link dei giocatori del club Perché poi in realtà quando andavi a vedere il giocatore tipo Modric Anziché il logo del rialcio aveva il logo da nazionale croata Sì ok però già sono linkabili Cioè manca pure quest'altra giocata fantastica Vabbè praticamente parte tutto dall'11 Ok dall'11 di novembre E dall'11 di novembre si possono iniziare a collezionare queste carte Che scadono il 4 di gennaio mi pare O comunque i primi di gennaio Queste carte le possiamo utilizzare per riscattare i vari swap Come sono per gli icon swap Hanno utilizzato i FIFA World Cup swap token Ok Per poter poi utilizzare questi swap Per riscattare pick giocatori delle varie modalità Delle varie modalità Ok Che usciranno Quindi andiamo a parlare per ditte Dei giocatori tipo le icone speciali Gli robustati E tutta un'altra serie dei giocatori Molto simpatici Che comunque hanno fatto uscire un sacco di immagini e di leak Delle varie Delle varie promo Ma ve li faccio vedere Eccoli Questi qua Sono quelle Tutte le tipologie di carte che dovrebbero uscire Quindi abbiamo Vabbè World Cup player che sono quelli che scadono Tutte le altre sono tutte carte che non scadono Questi qua sono i swap token World Cup star World Cup path to glory Che sicuramente faranno uscire penso O la prima settimana O magari questa settimana proprio Perché a ridosso Stiamo a ridosso dei mondiali Ormai mancano pochi giorni Un paio di settimane se non sbaglio World Cup World Cup stories World Cup phenom World Cup team of the tournament Questo è un torretore Benz è l'ultimo E World Cup hero Vi faccio vedere pure Quel discorso del pre-order E tutte queste cose E comunque queste qua Sono tutte le varie grafiche Dinamiche che ci saranno Per le varie carte L'unica che scadrà ovviamente È questa qua Le altre fanno parte tutte delle promo E questa qua è quella che riguarda Gli swap Dopodiché Ti appunto Ho detto Utilizza queste carte Per sbloccare Quindi queste qua Le levano proprio dal club E poi le utilizzi invece Per sbloccare roba permanente Per ultimate team Mi auguro sia fatta bene Perché a me l'idea non dispiace Onestamente Si è sembra fatta abbastanza bene Ci sta proprio tutto sto discorso Che faranno una valanga di promo Metteranno una valanga di giocatori Secondo me carte E anche molto forti Quindi l'idea ci sta E forse è anche più sensato Della modalità World Cup Poi Secondo me Basterebbe a un certo punto Creare anche una cosa Dentro ad ultimate team O modalità stagioni O tipo una coppa Che parte dagli ottavi De finale Con determinati requisiti Dove magari ti regalano anche Una di quelle carte Che avete visto prima E potrebbe essere Tutto molto simpatico Allora arriviamo al pre-order Ah Tra le altre cose Prima dei FUTIROS Hanno detto nel trailer Qui non c'è scritto Che ci saranno Come avete visto dalla grafica Quella là delle icone speciali 35 icon Hanno parlato di 35 icone Modalità mondiale Ma aspetto tipo magari close Che è quello che ha fatto Più gol in assoluto E altri giocatori decisivi All'interno della modalità Cioè All'interno della promo appunto Relativa appunto Alla coppa del mondo World Cup IROS Alcuni IROS Celebriano un contributo chiave Che hanno dato i precedenti FIFA World Cup E ora la prima volta Nei 14 anni di storia Tutti erano i FIFA World Cup Avranno immagini illustrate Marvel Vabbè Insomma cambia solo un po' la dinamica Sono simpatiche Comunque sono belle dinamiche Queste sono tutte le carte IROS Sono praticamente tutti i IROS Usciti quest'anno Boostati Che sono quelli che abbiamo visto A inizio anno Come Come abbiamo fatto Chissà se escono Chissà se sono solo modalità mondiali Blablabla In realtà la risposta è Queste carte saranno solo Ultimate Team normale Andranno a sostituire In maniera permanente Dai pacchi Gli eroi foot Quindi proprio la loro versione Tipo Govoo C'ha l'86 Quello che è Andrà sostituito Con la versione 87 Di Govoo E così via Per tutti gli altri Alcuni eroi World Cup Potrebbero essere disponibili Solo con SBC giocatore O come premio obiettivo Voglio che regalano qualcuno Col premio obiettivo Cioè credo poco Cioè in realtà Potrebbero metterli dentro Agli swap Poi se hai preordinato FIFA 23 Ultimate Edition Entro il 21 di agosto Riceverai il tuo oggetto Giocatore eroe FIFA 23 Non scambiabile A partire dall'11 di novembre Questo oggetto Giocatore Sarà uno dei 21 eroi Della Coppa del Mondo FIFA Che sono i nuovi foot 23 Indipendentemente Dalla versione Della squadra Che si sono presenti Perché Ho detto che li fanno Uscire a scaioni Di due Di due settimane Nei pacchi Quindi vanno a sostituire Che ne so Föller magari la prima settimana Appena parte il mondiale Settimana successiva Invece mettono Magari Nakata E gli altri E l'altra metà dei giocatori Che mancano Però è molto interessante Il fatto che abbiano deciso Di Regalarle Ti devo dire È Una bella roba Per il preorder Perché poi alla fine Sono tutte forti Certo se mi vai a down Magari Ma pure Capdevil L'unico è Crouch Alla fine Che è proprio disastroso Il resto Sono tutte belle carte Perché poi Sono tutte i basi Di quest'anno Boostate E quelli di quest'anno Sono tutti forti Alcuni hanno cambiato Il campionato Ma comunque Avece le gratuite Ovviamente solo per chi Ha preso l'ultimate Preordinandola Prima del 21 di Di agosto Entro il 21 di agosto Che è quello che dicevano No bonus preorder Come bonus preorder A me Non mi dispiace Per niente Avete le carte Nel particolare Poi è tipo Oh ma stai L'uomo Guarda Calieno E poi ricordiamo Che so i rossi C'hanno tre A prescindere Qualunque modo Le metti Che non sono male Per niente Domande frequenti Abbiamo detto Niente di più Il più È vedere Come si comporteranno A livello di promo Io già ho sentito Qualche Brutta cosa Tipo che ad esempio Questo venerdì Non esce nulla Spero non sia vero Che sapiano la pausa Pre-workup Ma che magari Facciano usci O out of position 2 Anche se non penso Perché non c'era scritto Team 1 Sotto al primo team Dove in generale Sono due team Lo scrivono sempre Oppure magari È arrivato il momento De fa Pure i migliori Dei giro Dei giro in Champions League Vediamo che Decidono di Di fare Però io Tutto sommato Sono abbastanza soddisfatto Della gestione Vediamo Anche gli swap Vediamo che requisiti Che requisiti hanno Però Anche le promo Comunque hanno fatto uscire Che erano 10 grafiche Cioè vuol dire Comunque fai uscire Una marea di carte Cioè sarà tutto A tema World Cup Ci saranno pure Sicuramente Flashback Ci saranno giocatori Player Moments Mi aspetto Giornate Piene Piene Di contenuto Carte live Che si aggiorano A seconda Della prestazione Dei vari giocatori Insomma Promette Promette bene Cioè secondo me È anche meglio Di quella che era La modalità La modalità vecchia Che forse Potevano inserire Però Proprio Diciamo Tipo Se hai fatto 100 game Sul Sul Normal Ultimate team Ti diamo Tot pacchi Gioca con quelli E poi Più giochi E più ti diamo Altri pacchi Se la potono gestire così Senza mettere Proprio un mercato Pacchetti Extra E altra roba Oppure comunque un minimo Potrebbero creare Però Io Sono abbastanza soddisfatto Al momento Soprattutto poi Del Del preorder Per quanto riguarda L'Iro Perché sono tutti buoni Cioè alla fine Chi te da Te da Te li danno tra 10 giorni 11 giorni No anzi 9 Li metti nel Li metti nel club tutti Tranne Crouch Che sì Insomma Però se non metti a Crouch È buono Tutti quanti Saranno simpatici Infatti le squadre Di quelli contro Weekend Cioè pensa a Brolin Che hit Che può essere Arda Marchese Vabbè Marchese O gli adono Cambia per AirBody Gli agliature Pure un bel fenomeno No ma rivedendole No ma rivedendole Veramente tanta roba Tutte quante Cioè so So carte Contro cazzi Devo dire Vabbè ragazzi Quindi ricordatevi Che non ci sarà Una modalità A parte Per quanto riguarda FIFA World Cup Ultimate Team Ma sarà tutto integrato Con delle promo Soldi All'interno Di Ultimate Team Standard Se vi volete giocare Roba con le grafiche Verrà inserita All'interno del gioco Senza Senza DLC Senza niente Ovviamente In maniera gratuita Lo aggiungono Al gioco Tutta la parte grafica Poi gioca contro cpu O con gli amici Ma niente di più Ragazzi ci vi do un bacione Ci vediamo come al solito Su Twitch Ciao